Ieri a Villa Devoto la giunta regionale convocata dal presidente Cristian Solinas ha nominato su proposta dell'assessore della sanità Mario Niedu, Domenico Mantuan, commissario straordinario dell'azienda per la tutela della salute per un periodo di 60 giorni. Mantuan, medico di 62 anni e attualmente direttore generale dell'area sanità e sociale della regione Veneto. Regolarmente inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina, ricoprirà l'incarico per il tempo strettamente necessario all'approvazione della riforma del sistema sanitario regionale e in particolare della legge istitutiva dell'azienda unica e comunque per un massimo di 60 giorni. E sulla riforma dell'azienda unica sulla quale c'è molta attesa, la nota della Cisle Sassa rincalza all'esecutivo Solinas. La giunta regionale passi ai fatti, la sanità in Sarrendi ha bisogno di ricominciare con un progetto nuovo che tenga conto dei bisogni delle comunità, scrive Antonio Monni, segretario territoriale. Siamo d'accordo con l'ipotesi di riforma di superamento dell'azienda unica, spiega ancora Monni, anche se non tutto va buttato via, ossia alcuni dipartimenti è bene che restino regionalizzati, di contro invece appare quanto meno coerente a restituire ai territori il governo dell'ospedalità e di tutte le articolazioni ad essa dipendenti e integrate in modo tale da efficientare il modello di cuore di presa in carico dell'assistito e nel contempo rendere efficienti strutture e servizi a personale dedicato. Intanto le ultime indiscrezioni sulla tempistica parlano di un'informa che dovrebbe arrivare entro l'anno. Oltre mille agricoltori hanno manifestato ieri a Cagliari davanti alla sede dell'Argea. A tre anni dalla terribile siccità degli altri eventi calamitosi del 2017 sono in pagamento il 3% dei 38 milioni stanziati, quasi 600 giorni di attesa nei quali gli imprenditori agricoli sardi hanno subito perdite per altre calamità. Non va certo meglio prosegue la Coldiretti con il programma di sviluppo rurale. Dal settegno 2014-2020 sono stati effettuati pagamenti per il 41% del piano finanziario. A un anno dalla scadenza mancano da spendere 761.514.408 euro. Nella misura investimenti 4.1 siamo fermi al 29%, mentre quella per i giovani agricoltori, solo la presentazione delle domande è stato un calvario, siamo al 35%. Coldiretti, come già aveva fatto la Confragricoltura, accusa l'eccessiva burocrazia dell'organismo pagatore, che entro pochi mesi dovrebbe diventare autonoma. L'accelerazione della spesa delle risorse comunitari e l'erogazione degli aiuti per i danni causati alle produzioni agricole della siccità del 2017 sono tra le priorità che il Presidente Solinas e tutta la Giunta hanno posto nell'agenda politica fin dall'insediamento, ha risposto l'assessore regionale dell'agricoltura Gabriella Murgia. È in corso, dopo le condivisibili proteste e sollecitazioni delle organizzazioni di categoria, continua Murgia una puntuale ricognizione dello stato delle criticità e dei pagamenti, sia con riferimento alle domande di finanziamento a valere sulle misure del PSR Sardegna 2014-2020, sia con riferimento alle richieste di indendizzo presentate per la siccità del 2017. L'ex giocatore della Dinamo, Russian Thomas, in manette per droga. L'ala pivot americana, tra i protagonisti dell'ultima stagione bianco-blu, è stato arrestato lo scorso 29 luglio a Gainesville, in Texas, per possesso di stupefacenti. La polizia, dopo aver fermato Thomas per eccesso di velocità, ha notato l'odore di marijuana proveniente dall'abitacolo. Un controllo approfondito della vettura ha portato alla scoperta di alcune pastiglie di ecstasy, 3,5 grammi di marijuana e 2 fiale di butan hash oil. Il BHO, anche conosciuto in gergo come olio di miele, è un concentrato molto potente della cannabis, ottenuto tramite estrazione con butano e rappresenta l'ultima moda tra i consumatori di THC. Thomas, trascorso una notte nella prigione della Contea, ha potuto lasciarla la mattina seguente pagando 32 mila dollari di cauzione. Il gestista dell'Oklahoma, che aveva appena firmato un biennale per il partisan Belgrado, dovrà ora affrontare un processo in cui rischia dai 2 ai 10 anni di galera. La punizione più pesante scatterebbe, se ritenuto colpevole per la legge americana, di un reato di terzo grado. Sconcerto tra i tifosi della Dinamo, che hanno imparato nel corso della passata stagione ad ammirare le qualità del gestista come uomo a squadra e realizzatore. Nella vita si cade e ci si rialza, ha commentato sulla vicenda Gianmarco Pozzecco, allenatore della Dinamo. Il gremio dei contadini ha un nuovo candeliere che riprende nelle misure e nei colori il cero storico finora utilizzato alla faradda. Un cero che lo scorso anno, proprio durante la discesa, aveva mostrato evidenti lesioni strutturali. Il nuovo candeliere è stato presentato martedì sera nel chiostro di Santa Maria di Betlem, complesso dove il gremio dei contadini ha la sua cappella dedicata al patrono San Giovanni Battista. E tanta è stata l'emozione quando il candeliere, al termine della proiezione di un prezioso documentario sulle fasi di costruzione, è stato svelato al pubblico e quindi benedetto dal padre guardiano di Santa Maria, Salvatore Sanna. I portatori, guidati da Antonio Cussu, hanno quindi fatto ballare il nuovo cerovotivo. Il candeliere è stato realizzato da Giovanni Andrea Pasca, laureato in architettura e profondo conoscitore delle macchine a spalla della tradizione sassarese, insieme a Roberto Ruocco. Nel corso della serata sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni cittadine, ma anche degli enti pubblici e privati, che ne hanno permesso la realizzazione. La nuova opera è stata dedicata a due figure che hanno fatto la storia recente del gremio, Antonio Gavino De Rosas, primo presidente dell'Intergremio, e Giovanni Ruiu Platamona, grande capo candeliere ma anche gremiante e obriere maggiore. Parte il progetto Cambusa con la Camera di Commercio Capofila per sostenere l'integrazione tra la filiera del turismo nautico e quella della produzione agroalimentari locali di qualità. Un primo showroom è stato aperto a Sintino per tutto il mese di agosto, mentre dal 9 all'11 agosto sarà presente nel Porto Cervo Marina grazie alla partnership tra l'ente camerale, l'assonautica e il consorzio Cipnes. Troveranno spazio i prodotti di nicchia selezionati tra quelle delle filiere identitarie garantite dagli standard che l'Università di Sassari ha previsto per ottenere gratuitamente il bollino Cambusa. I diportisti potranno acquistare anche online collegandosi al sito www.cambusa.eu, un'applicazione scaricabile sullo smartphone che consente di scegliere e acquistare le eccellenze enogastronomiche della Sardegna. Il progetto Cambusa nasce da un'idea di Italo Senes, presidente di Assonautica. Finalmente stiamo arrivando alla fase prettamente operativa del progetto Cambusa che io personalmente porto avanti da vari anni, lo porto in tutti i saloni nautici d'Europa e così in questa maniera posso dire che attraverso finalmente l'Interreg che ci ha consentito di poter avere il supporto finanziario per promuovere veramente il progetto. Il progetto è supportato dalla Camera di Commercio di Sassari. Sentiamo il presidente Gavino Sini. La nautica è sicuramente il settore che negli ultimi anni è stato un pochettino messo da parte anche un po' dalle crisi e soprattutto dalla crisi che hanno avuto tutti gli eventi fieristici anche a livello nazionale intorno alla nautica. In Sardegna da anni si era provato a ricostruirci sopra un filone e noi abbiamo pensato di provare a riprenderlo da un lato, da un accosto che è sicuramente quella dell'integrazione della nostra cultura materiale e delle nostre ottime produzioni dell'agroalimentare all'interno di quella che è la filiera turistica nautica. Senori rinnova l'appuntamento con Calici di Stelle, la manifestazione promossa in tutta Italia dall'Associazione Nazionale Città del Vino e dal Movimento del Turismo del Vino e mette in vetrina le migliori produzioni enogastronomiche della Romangia offrendo a turisti e visitatori la fiera del gusto, della cultura e dello spettacolo. Un evento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco e l'associazione Feste in Festa che si svolgerà sabato 10 agosto per approfittare dello spettacolo naturale offerto dalla Notte di San Lorenzo, la Notte delle Stelle Cadenti. La manifestazione si aprirà alle 19.30 con il taglio del nastro al centro turistico Rosa Gambella e proseguirà fino alle 2 per le strade del centro storico proponendo un connubio tra arte contemporanea, musica, spettacoli, vini pregiati e prodotti tipici della cucina locale. Tra le attrazioni la compagnia Teatran Vol che quest'anno compie 30 anni, cori, gruppi folk e band musicali senoresi che suoneranno in diverse postazioni del cuore della città. Nel piazzale del centro turistico sarà inoltre possibile osservare il cielo e le stelle grazie ai telescopi messi a disposizione dall'associazione astronomica turritana. Grandi novità dai poderi Parpinello, un torbato brut di grande gusto e fine perlage e un raffinato torbato doc. La batteria d'attacco del latte dolce conferma la Menducar, classe 1993, a riete offensivo con movenze da centravanti classico, il giocatore senegalese vuole rilanciarsi in campo dopo una stagione in parte compromessa dagli infortuni. Soprannominato da Black Panther per la corsa elegante e flessuosa che combina con un balzo mortale per gli avversari nell'area piccola, Ducar si candida come punteros a tempo pieno per la squadra bianco-celeste nel prossimo campionato. L'attaccante, nato in BAU, gioca dalla scorsa stagione nel latte dolce dopo aver militato nelle compagini di Tergu, Gavoi e Stintino. Le tre società hanno permesso alla punta senegalese di maturare le qualità necessarie per tradurre in gol gli schemi d'attacco del mister Stefano Udassi. Ducar, che si ispira a Dembabà, Eto e Drogba, tra i diamanti più appariscenti del calcio africano, considera Udassi un maestro e attinge da lui, ex attaccante, i segreti per eccellere in area di rigore. Per i giocatori il latte dolce rappresenta non soltanto una squadra ma anche una famiglia, con cui intende raggiungere importanti traguardi. Non posso sapere né tantomeno prevedere cosa succederà nella stagione che sta per iniziare, ma di certo giocheremo ogni singola partita pronti a dare il massimo per mettere in campo la migliore prestazione possibile e fare quanti più punti è possibile, ha dichiarato la Man Ducar, l'attaccante della ventunesima pedina dello scacchiere bianco celeste.